Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Qui confluiscono tanti bambini, sia delle scuole Maggini, che dopo l'uscita della scuola si ritrovano qua, anche io e mia figlia che frequenta questo parco con i compagni di scuola, e sia quelli della scuola Materna Fantasia, che quando finiscono la scuola vengono e stanno. Quindi è un momento proprio di ritrovo anche di alcune famiglie, sono state organizzate anche delle piccole feste, cioè è l'unico parco che è rimasto un po'... Prima noi avevamo anche questo parco che era legato alla chiesa di San Francesco qui d'Assisi, però poi essendo stata venduta tutta la struttura, noi non abbiamo accesso ad altri parchi. Nel quartiere di Candia, ad Ancona, il parco pubblico Fantasia di Via Fermo è un punto di riferimento vicino alle scuole pubbliche, frequentato da anziani in famiglie. Da tempo è sprovvisto di qualsiasi appoggio, mancano panche e tavolini, e i residenti si sono dovuti attrezzare con delle poltroncine fatiscenti da giardino, per potersi sedere mentre i bimbi giocano. I residenti sono stanchi anche dell'erba alta, che copre quasi tutti i giochi per i piccoli, e chiedono maggior cura e manutenzione da parte del comune. Tenere presente che le famiglie hanno bisogno sempre più di luoghi dove possano incontrarsi, stare insieme, condividere un po' la vita, perché altrimenti già si tende molto a chiudersi, ad avere paura dell'altro, e invece questo era un luogo che permetteva un po' l'incontro, oltre quello della scuola. Sono state trovate delle siringhe, è stato utile che sono stati chiusi i cancelli la sera, quindi dopo una certa ora non c'è più un via vai di gente, non c'è un... Ecco, per la sicurezza, anche se sono state trovate delle volte delle siringhe, quindi la cura consiste anche nel vigilare un po' su che cosa arriva, anche nei parchi. Quella di Via Fermo è una zona residenziale, ma ci sono persone che qui vengono anche a lavorare. Non lo so, non lo so. Non sono mai stati dei problemi, non so. Che io sappia no, perché come ripeto, non è che abito qui che porti i bambini, io ci lavoro, perciò questa domanda non la so rispondere. Non è facile strappare qualche dichiarazione. Molti hanno timore di dire la loro. Di certo è un peccato che un polmone verde così grande nella città dorica sia lasciato così all'incuria.